Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Elodie e Andrea Iannone sono stati sorpresi a cena con Diletta Leotta e Loris Karius. Le due coppie, legate da una profonda amicizia, hanno trascorso una serata all'insegna della spensieratezza. La dedica di Iannone alla sua compagna ha colpito tutti. Il settimanale Chi ha immortalato questo incontro tra Elodie, Andrea Iannone, Diletta Leotta e Loris Karius, una cena all'aperto tra risate e momenti di allegria. Le due donne condividono anche gli allenamenti al parco, consolidando così il loro legame. Elodie e Diletta, amiche da anni, hanno coinvolto i rispettivi partner in questa cena fuori. I paparazzi di Chi hanno focalizzato l'attenzione sull'affiatamento tra Di Patrizzi e Iannone. Stringimi ancora di più, titola la rivista, riferendosi agli abbracci tra Andrea e la sua dolce metà. Recentemente, Iannone ha dedicato un dolce messaggio alla sua fidanzata sui social. Condividendo su Instagram delle foto di Elodie, ha scritto «grato alla vita per averti incontrato». La Di Patrizzi ha risposto prontamente «amore mio stupendo». Questo incontro tra le due coppie ha destato curiosità e interesse, soprattutto per la complicità e l'affetto dimostrati da Andrea Iannone verso Elodie, un momento di dolcezza e intimità che ha conquistato i fan.